salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale allora in questo video faremo come al solito adesso che è finito il calcio mercato dobbiamo fare ovviamente cioè devo dare il mio voto no? e diciamo che non mi aspetto molto cioè voi sicuramente penserete che questo voto del calcio mercato invernale del 2021 della Lazio sia stato gravemente insufficiente secondo me invece non è così sono sicuro al 100% che vi stupirò allora partiamo subito con il dire che la Lazio aveva tentato a prendere e doveva prendere uno o più difensori poi doveva prendere ad esempio gli esempi li facciamo dopo comunque allora il difensore e poi non ripuntellare qualche altra zona nel campo e allora la Lazio per prima cosa voleva prendere Todibo saltato e anche Socrates è saltato perché questo appunto doveva prendere anche comunque un quinto di centrocampo però diciamo che adesso che è tornato Lulic e sta facendo bene a sinistra Marusic forse adesso non c'è bisogno di nessun altro però comunque la Lazio allora cioè diciamo che un paio di calciatori li ha diciamo ha provato a prenderli magari con qualcuno ha fatto dei sondaggi però nulla di che non sono riusciti ad arrivare insomma non c'è stato nulla e quindi la Lazio ha preso in difesa allora in Kamenovic che ho fatto anche un video che vi lascerò in alto nelle schede se non l'avete ancora fatto mi invito ad andare a vederlo insomma e che allora Kamenovic appunto secondo me sarebbe è un ottimo acquisto che arriverà e a fine stagione quindi diciamo che è anche giovane quindi sicuramente farà bene anche diciamo che ci sta anche a pensare ecco al subito per agosto che poi per il calciomercato estivo lì sì che dovremmo fare molti 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 acquisti e acquisti di spessore di livello tipo in difesa uno a livello di acerbi perché nel caso ovviamente dovessimo prendere molti soldi dalla Champions e anche riqualificarci in Champions quindi poi adesso diciamo che allora Kamenovic è stato preso poi abbiamo preso anche Musacchio bene sì ragazzi perché io ovviamente ho fatto un video anche di Musacchio quindi ve lo lascerò anch'esso in alto nelle schede però diciamo che mi aspettavo qualcosina in più anche se poi guardando la partita contro l'Atalanta che è entrato nel secondo tempo sì comunque non ha assfigurato deve un po' ancora abituarsi al modo di giocare con una difesa a tre come vuole Inzaghi ma diciamo che del resto ecco a me non sembra proprio così una pippa ecco come molti pensano come molti dicono quindi speriamo faccia bene secondo me diciamo che io lo reputo un grande affarone cioè un affarone no però insomma un bel acquisto che se magari speriamo sperando che ritorni ad essere il difensore che tutti noi vedavamo moltissimi anni fa che era un bel prospetto no e quindi diciamo che il Milan poi non ha fatto bene ma comunque io ho fiducia in lui e da quando un calciatore veste la maglia della Lazio poi io comunque devo tifarlo e insomma e devo difenderlo anche se cioè io chiaramente lo difendo se lui magari non riesce a fare ottimi risultati però fin dall'inizio però ci mette l'impegno e vedete no quello è l'importante è una cosa che dico sempre no poi allora dice poi non abbiamo preso nessun altro in entrata però diciamo che non mi aspettavo molti altri acquisti poi al centrocampo siamo anche troppo coperti quindi abbiamo preso un musacchio appunto perché lui felipe si è infortunato sì però altrimenti diciamo che non abbiamo preso neanche musacchio è questo che mi fa preoccupare no perché questo anche perché per il problema con la lista che noi appunto dovevamo altrimenti se prendevamo un musacchio che andava preso secondo me già ancora quest'estate per avere un ottimo cioè per avere anche degli ottimi difensori anche in panchina diciamo cioè insomma ottimi insomma dei difensori in panchina decenti ecco se si può dire quindi anche perché diciamo che il problema qual'era no che non poteva prenderlo la Lazio appunto per il problema della lista che non essendo nell'under 22 allora dovevano togliere per forza uno a centrocampo dato che ne abbiamo uno cioè ne abbiamo tanti ne abbiamo anche troppi secondo me ecco poi diciamo che la Lazio comunque del resto ha fatto un buon lavoro nelle cessioni perché appunto ha sfoltito un po' la rosa e dando via a calciatori un po' più scarsi che non trovavano spazio tipo ad esempio e ad esempio Anderson appunto sì perché Anderson poi un altro eh sì appunto no scherzavo dai in realtà ce ne sono cessioni ovviamente cioè volete che prima vi dico che ci sono state che la Lazio è stata brava sulle cessioni e poi non ve ne dico neanche una no allora una ad esempio è quella di Sofian Keen che allora io adoronzo diciamo che ho seguito un po' diciamo che mi è piaciuto non so non capisco questa cioè il perché no non capisco perché Inzaghi proprio neanche c'è una cosa strana allora torna la Salernitana comunque in prestito e dopo essere rimasto fuori dalla lista per i primi mesi della stagione no della Salernitana è strano non capisco perché la Lazio e anche la Salernitana non vogliono puntare su di lui che a me non è sembrato male a me sembrava che avesse qualità sui cross ma comunque vabbè poi invece allora Bobbi Adecanie allora lui è nato in prestito al Cadice appunto perché non ha trovato molti spazi e quindi diciamo poi e poi ha firmato con per l'Addo Den Haag una squadra olandese e insomma per i per un paio d'anni successivamente poi abbiamo dato via Durmisi in prestito e poi anche abbiamo Vavro si Vavro che l'abbiamo ceduto al Uesca un club di bassa classifica in liga e si appunto è Durmisi alla Salernitana e quindi Durmisi giocavamo con Durmisi un calciatore che era a Serie B vabbè diciamo che poi come come potevamo pensare di far bene vabbè diciamo che dovrebbe essere a titolo o in prestito o a titolo definitivo ma sapete che ho cercato un po' dappertutto ma è ufficiale si alla Salernitana ma non riesco a trovare se per quanto insomma no in teoria a titolo definitivo però vabbè comunque diciamo che tutto sommato la Lazio mi è sembrata abbastanza attiva diciamo che stiamo un po' migliorando anche lasciando cioè veramente stiamo cioè anche stiamo vendendo molto quindi diciamo che poi in estate è ovvio che bisogna prendere dei top player soprattutto in difesa no e poi tutti quelli che sono stati mandati via in prestito devono definitivamente essere ceduti tipo questi calciatori che ormai era Lazio più di tanto non possono più dare no ecco allora e quindi questo è tutto nel calciomercato quindi diciamo che se devo darvi un voto allora diciamo che io alla fine darei un 7 perché alla fine il difensore è stato preso no alla fine poi per il futuro è stato preso Kamenovic che non è il massimo però e poi abbiamo fatto una bella sfoltita alla rosa quindi ecco questo è il voto che secondo me la Lazio si merita quindi diciamo che il calciomercato purtroppo era finito già da già lunedì alle ore 20 però comunque diciamo che meglio tardi che mai insomma no perché avevo ho fatto il post partita nelle due partite delle due semifinali d'andata di Coppa Italia quindi non sono riuscito purtroppo a farvi anche in in quei giorni anche questo video allora detto questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti sotto in descrizione link per seguirmi su Instagram e anche il link se volete appunto fare cioè vi consiglio di fare il sondaggio per il futuro di questo canale di questo canale appunto perché scusatemi ma oggi sto sbagliando un po' troppe parole ma perché questo perché secondo me è importante e poi condividete il video lasciate like e appunto iscrivetevi e che dire da Marco Sport 41 è tutto e ci vediamo con un prossimo video e ditemi sotto nei commenti che ne pensate del mio voto se siete d'accordo e ditemi i vostri voti insomma e poi sotto in descrizione insomma sbizzarditevi dicendo anche secondo voi chiarano gli acquisti da fare e insomma fate quello che volete e detto questo vi saluto e buona giornata a Grazie per la visione!